Oggi per un minuto di storia con Mario ricordiamo uno dei discorsi più belli del Novecento, il discorso di John Fitzgerald Kennedy davanti al muro di Berlino del 26 giugno 1963, discorso passato alla storia con una frase, ich bin ein Berliner, il presidente americano davanti all'Europa spaccata in due dal comunismo, alla Berlino spaccata dal muro comunista, proclama il suo inno di libertà, citando la grandezza dell'impero romano e dicendo che duemila anni fa gli uomini liberi pronunciavano una frase per poterlo testimoniare che era civis romanus sum, sono cittadino romano. Ebbene io davanti a questo muro simbolo d'oppressione oggi proclamo come inno di libertà, ich bin ein Berliner, io sono un berlinese. John Fitzgerald Kennedy sarà ucciso pochi mesi dopo a Dallas.